Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Agnelli, a tutti i rappresentanti delle imprese associate, a Confim Industria per l'invito. Chiaramente mi dispiace non poter essere fisicamente con voi, però ci tenevo comunque a farvi arrivare il mio saluto e il mio contributo. Voi rappresentate il mondo della manifattura italiana, fatto in gran parte da piccole e medie imprese, siete di fatto la storia della nostra industria, il motore che permette alla nostra nazione di essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa. incarnate un binomio vincente, famiglia e fabbrica, una peculiarità tutta italiana che vuol dire eccellenza, tradizione, innovazione, ricchezza per i nostri territori. Siete un valore aggiunto per tutta la nazione, un patrimonio che va preservato, va valorizzato in un tempo di grandi trasformazioni, di cambiamenti che sono epocali nel modo di produrre, nel modo di lavorare, nel modo di investire. Io penso che il compito del Governo debba essere quello di accompagnare le piccole e medie imprese nelle sfide di questo tempo, fornire loro gli strumenti per liberare al massimo il loro potenziale. Penso all'attenzione per la produttività del lavoro, alla necessità di garantire ricambio generazionale, alla priorità di assicurare il fabbisogno di personale qualificato. Penso al taglio della burocrazia e all'obiettivo di costruire uno Stato che sia un alleato di chi fa impresa e non un ostacolo, un nemico. Ecco sappiate che su queste e su molte altre sfide il Governo è al vostro fianco. Lo abbiamo dimostrato in questi due anni e ci impegniamo ovviamente a farlo per i prossimi a partire dalla nuova legge di bilancio. Una manovra ispirata al buonsenso, ispirata al pragmatismo che concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono e creano posti di lavoro e per rafforzare il potere d'acquisto delle famiglie. Abbiamo di fatto smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra o in cose secondarie o in cose addirittura inutili quando non controproducente, abbiamo abbassato le tasse nonostante la situazione dei conti pubblici che abbiamo ereditato, non esattamente facile. Abbiamo reso strutturare il taglio del cuneo fiscale, abbiamo esteso l'esonero contributivo per le mamme lavoratrici con almeno due figli, anche alle lavoratrici autonome e abbiamo rinnovato la detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit. Abbiamo confermato la super deduzione del 120 per cento del costo del lavoro per le nuove assunzioni e scelto di rifinanziare la nuova Sabatini portando il fondo per il 2025 a 607 milioni di euro e incrementando le risorse fino al 2029. E dove abbiamo preso i soldi per fare tutto questo visto che i soldi non ne abbiamo molti? Una parte arriva dal nuovo rapporto che abbiamo costruito tra fisco e contribuenti che ci ha permesso di avere più entrate nelle casse dello Stato, un'altra dal contenimento della spesa dei ministeri e un'altra parte ancora da banche e assicurazioni. È una cosa che nessuno aveva avuto il coraggio di fare finora e che rappresenta una grande novità rispetto al passato. Quindi caro Presidente Agnelli, carissimi imprenditori, un grande italiano come Adriano Olivetti diceva che la fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza e cultura, servizi, democrazia. Diceva io penso la fabbrica per l'uomo e non l'uomo per la fabbrica. È un insegnamento straordinario che voi avete fatto vostro perché ogni giorno incarnate un modo tutto particolare di fare impresa, un'impresa che crea valore sociale, che crea ricchezza per il territorio in cui opera, che consente alla nostra identità di essere sempre al passo con i tempi e di sapersi proiettare nel futuro. E di questo non possiamo che dirvi grazie. Quindi buona assemblea a tutti, buon lavoro. Grazie a tutti.